Ciao e benvenuti al video della comunità OpenMage Italia. Oggi voglio parlare di come pubblicare un libro in modo totalmente gratuito o comunque spendendo veramente poco. Online si può, infatti ci sono tantissime piattaforme che lo permettono. Allora, prima parentesi, prima di pubblicare un ebook dovete scrivere il libro, poi fino a lì ci siamo. Poi, formattare, quindi utilizzare calibre potrebbe essere un possibile strumento, creare la copertina, inserire i metadati che sarebbe interessante proprio legati al libro. La copertina, se per esempio non siete bravi, vi posso consigliare una cosa o lo chiedete a un amico oppure utilizzate le immagini Creative Commons e quindi le inserite. Magari ci sono delle immagini veramente belle sotto queste licenze, quindi potete farlo e magari la potete anche un po' modificare, dipende dalla licenza. Quindi una volta fatto ciò, utilizzate l'ebook o comunque libro anche in formato PDF, è bello formattato, e lo inserite in queste piattaforme. Le piattaforme che permettono proprio di pubblicarlo in modo gratuito o comunque sotto commissione. Quindi, la prima è SmartWords, questo di qui è in modo gratuito. Vi basta che cliccate going for free, vi registrate e inserite il libro. State attenti alla formattazione, è importante perché ci sono delle regole specifiche, ma basta che le seguite ed il gioco è fatto. Quindi è molto semplice. E questo di qua è il primo. Un altro servizio che secondo me è interessante è i Feedbooks. È molto interessante questo sito, è facile da utilizzare. Accedete, vi registrate, accedete, inserite il libro e vi formattano diversi formati. Quindi basta che utilizzate un formato per averne altri. Quindi PDF, EPUG e tutti i resti. Insomma, tutti i formati più importanti, quelli più utilizzati. Poi un altro è Amazon. Vabbè, sicuramente sarà conosciuto. Basta andare su questo sito e inserite all'interno il testo del vostro libro. E poi comparirà dopo 24 e 48 ore. Lui, comunque, se non avete il formato per i mobile, non vi preoccupate perché lui, comunque, è predisposto per renderlo migliore possibile, soprattutto per i Kindle. Queste sono le piattaforme che ho voluto mostrare. Ce ne sono moltissime altre ed è veramente interessante. Una volta introdotta all'interno della piattaforma, una cosa interessante sarebbe proprio creare la gamificazione. Creare la gamificazione, che significa utilizzare gli strumenti sociali per attirare comunque possibili compratori del vostro libro, se avete nessun prezzo, oppure se l'avete rilasciato gratuitamente, attirare le persone che leggono il vostro libro. Quindi è sempre quello, perché se nessuno lo conosce, nessuno lo sa che esiste, sicuramente non ci andranno. Quindi creare proprio un po' di gamificazione. Questi sono i consigli che voglio darvi. Normale che comunque non è facile pubblicarlo da solo, soprattutto se all'interno proprio di social non avete tantissime persone che vi seguono. Però sicuramente ci sono tantissimi altri consigli che vi possono essere d'aiuto. Utilizzate molto YouTube, utilizzate G+, Facebook, Twitter per attirare l'attenzione sul vostro libro. Con questo è tutto, un saluto dalla comunità OpenBage Italia. Grazie. Grazie Fa Grazie a tutti